Puzza! L'hotel puzza troppo, le camere sono grandissime ma puzzano! Quando tiro lo scarico esce la cacca dal lavandino e quando mi faccio la doccia esce urina e poi puzzo. Così non va bene? Nel letto ci sono insetti morti, cavallette, cani morti, capelli e si sente puzza di sudore. Vabbè, ma che voglio? Ma quante ne vuoi? Il pavimento è pieno di polvere, le finestre sono rotte ed è entrato un piccione. Famoso boccione viaggiatore. Per il resto è un grande affare. Mazza che m***o. Eeeh, dai, 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 dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo. E' il buonino più brevice del web. Oggi farò un video sulle recensioni più assurde dedicate agli hotel. Hotel da brivido. Questo su Google ha scritto non gli darei neanche una stella. Il proprietario ha risposto e sti c***i? L'uso secco e troncione. Hotel degli orrori. Non abbiamo neanche fatto il check-in, abbiamo trovato polizia, asl, ospiti intossicati e portati in ospedale. Brutta situazione. Ma sai che m***o è capitato questo? Punto 10. Albergo in cui puoi fare quello che vuoi e nessuno ti butta fuori. Corri tranquillo nudo per i corridoi. Top. L'importante è che lo fai a basta voce. Trovi sempre posto. Se vuoi fare serata con gli amici vai sul sicuro. Questo è l'albergo dove puoi fare quello che c***o ti pare. Manca solo il diavolo. Stanze sporche, lenzuola che puzzano, bagni senza carta igienica, salviette, detergenti e porta. C'è manca la porta. Camminando in camera senza calzature si prende la dissenteria. E poi attenzione, dimenticando di chiudere la porta d'ingresso la notte qualcuno è entrato in camera e ha evacuato nel bagno senza tirare l'acqua dimenticando poi le luci accese. Provare per credere. E poi consiglio sulle camere se volete soggiornare nel degrado questo è il posto giusto. Eh sì, manca solo il diavolo. Oh, attenzione, ci sono stato prima del 2000. In inverno, per un anniversario, ricordo solo che era piuttosto freddo e sono stato male. Del resto non mi ricordo niente. Ma questo addirittura gli hanno cancellato la memoria. Meglio di no. Scusate, non riesco a mandare la recensione perché ho la macchina fotografica sullo spazio delle recensioni. Grazie, scusate. No, no, vabbè, tranquillo. C'erano i fantasmi. Non sto scherzando, abbiamo sentito versi provenire da un piano superiore inesistente. Ci si è spenta improvvisamente la tv e abbiamo sentito uno shh proveniente da dentro la stanza. Il cibo è pessimo, se siete in viaggio organizzati vi daranno robe preconfezionate e porzioni macrignose. La struttura è molto bella ma la ferrovia è fastidiosissima e disturba i sonni profondi. Se ci dovete andare vi consiglio un soggiorno breve se non vi volete portare Samara a casa. PS, le camere infestate sono 103, 104, 105 e se vi capita la 105 pace all'anima vostra perché è l'unica senza bidet. E questo fa veramente paura. Oh, recensione, se proprio devo e il proprietario gli ha scritto no, non deve. Quest'altro ha scritto non posso venire in vacanza ed alzarmi per prendermi da bere, porco. Ma è giusto, uno sta in vacanza e non deve fare niente. Oh, questo ha scritto uno dalla Romania. A parte il letto che non puoi fare una partita di sesso tranquillamente che fa il rumore della madonna e perfetto. Vabbè, i letti sono importanti. Non lo farei cicolini. Ma bellissimo, questo gli ha scritto ottimo, però gli ha dato una stella. Questo facendo una media raggiunge la soffocenza. Hotel da incubo, stanza minuta, mancava la carta igienica, lavandino con il tappo incastrato. Mobili fatiscenti, colazione mediocre. Il tutto accompagnato da un sadico odore di zampirone. Per 90 euro a notte in una tripla come se fosse stata una doppia, già era invivibile. Mi dicono che è l'ultima stanza ed è notte. Una notte da incubo. Il proprietario gli ha risposto tra le varie cose, vede, noi veniamo apprezzati da gente semplice che sa che dietro al rubinetto del lavandino c'è un pomello che se è abbassato tira il tappo su, mentre se è alzato lo tira giù, così che l'acqua va via e scende. Vabbè, moglie l'ha insegnato. Attenzione, veramente non so com'è l'hotel Eden. Io vado al ristorante La Foresta che è lì di fronte ed è ottimo. Cioè, ma allora, ma che ne hai scritto a fare? Ma forse era scritto uno del ristorante La Foresta, sta recensione. Attenzione a Luigi che scrive, non lo conosco. E gli ha dato pur una stella perché non lo conosce. Quindi, negativo. Oh, Francesco ha scritto, che schifo. E il proprietario gli ha risposto, che fai? Va bene. Shining all'italiana. Usciamo dall'autostrada per via di una febbre che non mi permette di continuare il viaggio. Tutti gli horror cominciano così. Prima hotel in vista e ci fermiamo e decidiamo di prendere una camera. Ma fanno male. All'ingresso una puzza di fumo allucinante. Poco lontano, la fonte di quella puzza si chiarifica in un divano sfatto con coperte e un posacenere straripante di cicche. Anziana alla reception mi domanda, perché vi fermate qui? E già questo mi avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme. Beh, direi di sì. Spiego la signora il mio malessere e mi propone una cena a base di brodino, costo totale 15 euro. Che sa che ci hanno messo nel brodino? Ponderò e alla fine reclino gentile con la suddetta signora che, mangiando la sua pizza sul cartone nella sala da pranzo, con gesto sdegnato, alza una mano e mi dice, come preferisce. Prendo possesso della camera con la mia compagnia. Corridoi lunghi, altari consanti, farfalle punzonate in teche, arredamento anni 50, culle lasciate nei suddetti spettrali corridoi. Ma sta altro che Stephen King? Se Hitchcock fosse incappato in quell'hotel, avrebbe scelto quella location per il suo famoso film. Ma che te riferisci? Shining non era di Hitchcock, era di Kubrick. Vabbè, sei perso all'ultimo. Oh Vincenzo, se saprebbero parlare più lingue sarebbe fantastico. E sì, però tu cominci intanto a imparare l'italiano. Terrificante. Sembra di essere un film horror. Hotel 4 stelle, forse un tempo quando la voglia di fare l'albergatore c'era. La pecca più grande è stata la polizia, delle camere e il ristorante. Tra la mia richiesta di cuocere di più la carne, mi ha chiesto se avessi problemi di dentiera. Ora giudicate voi. Scusi, me la puoi fare più cotta? Perché i problemi c'ha, incedenti? Ottimo. Non lo so, dimmelo tu. L'hotel è molto accogliente, il cibo è squisito e il servizio è ottimo. Mi sono trovato molto bene con la mia famiglia per la prima settimana filava tutto liscio. Fino a che non è entrato in gioco Marcello, che ha marchiato tutti i bambini con morsi, calci e pugni. Tutti. Ma so, Marcello. Fino a che non ha morso anche me per ben due volte staccandomi la carne dalla schiena. Ma che è questo delge sta lassato degli zombie? Ci fosse stata una persona che gli avesse detto qualcosa a parte la babysitter a rivederci. Vabbè, attacco zombie negli hotel, capita? Sono dovuto scappare, è arrivato nel primo pomeriggio per lavoro. Avevo chiesto camera matrimoniale e mi ritrovo con due letti singoli accostati e tenuti insieme dal letto. Vabbè, questo mi ha capitato pure a me. Quasi cado tra un letto e l'altro, sono proprio un risuccio. Riscaldamento inesistente per impianto di condizionamento non funzionante. Due lampadine su cinque fulminate. Il tempo di una doccia e via di corsa. Non avrei mai potuto dormire lì. Il proletario gli ha risposto, ora non ve lo leggo tutto. Comunque qua ha scritto. Abbiamo controllato anche l'impianto delle luci. Se avesse inserito l'apposita card nel congegno di attivazione dell'energia elettrica, tutte le lampadine si sarebbero accese, non solo quelle di emergenza. Cioè, avete capito? Questo non ha inserito manco la card. Cioè, è stato in camera che è luce di emergenza? E quindi si sarebbe attivato anche il riscaldamento. Cioè, ma gente sta fuori. Qualora lo stato puro. Riassumerò la recensione con una sola parola. Schifo. Il check-in non è stato dei migliori. Quando io e la mia famiglia siamo entrati alle 17 nella hall, abbiamo notato le poltrone coperte con il nylon. Il televisore che non aveva segnale. Al bar erano presenti le bottiglie ma rivestite di ragnatele. E alla reception non c'era nessuno. Di conseguenza siamo stati in piedi ad aspettare che si presentasse qualcuno. Verso le 20 qualcuno si è finalmente presentato. E abbiamo fatto il check-in. Check questi soldi subito. Non cosa da hotel a tre stelle? 500 euro a notte in un hotel a tre stelle. Megoglioni. Abbiamo negoziato abbassando a 100 e subito ha accettato. Ma che davvero? Scusi, quant'è la camera? Sto a 500 euro. 500? Io te ne do a 100. Va bene, ok, affare fatto. Ciò denota ovviamente un bisogno disperato di soldi. Ci è stato detto che la camera sarebbe stata pronta in 5 minuti ma fino alle 23... Silenzio di tomba. Proprio sul punto di andarcene ci vengono consegnate le chiavi e... La carta igienica. È bellissimo, chiave e carta igienica. Ciò non era sicuramente ben augurante. Infatti appena saliti abbiamo trovato altre persone nella nostra stanza. Ma vabbè, capito. Loro ci dicono che quella è la loro stanza e noi scendiamo a chiedere spiegazioni. Mentre saliamo con il ragazzo alla reception incontriamo gli abusivi scendere di corsa. Ma che albergo è questo? Gli indesiderati ospiti ci avevano impedito di controllare lo stato della camera. Del letto era rimasta solo la rete e quando abbiamo chiesto lenzuola e coperte non hanno nemmeno voluto farci il letto per sdebitarsi. Ma quante cose volete? A quel punto sudato e nervoso entro in bagno per la doccia, apro il box traballante e trovo la base piena di formiche che affogo. Assessi. Ah sì, non con il sifone in quanto inesistente, ma assecchiate d'acqua, tinta al lavandino e chiamo la reception. Che dice che in zona costiera è normale. Dopo questa presa per il c***o io mi infilo nel letto ma verso le 4 del mattino il letto crolla miseramente e mia moglie si rompe un polso. Non so più cosa dire se non vai più. Ha soggiornato nel luglio 2016 viaggiando con la famiglia. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. BABURAI! BABURAI! BABURAI!